Musica Let's go bitch Sono finalmente riuscito a fare un nuovo video Anzi il nuovo video In questo caso Questo qui è un video per Iniziare diciamo il prequel di quello che sarà il video dei 20.000 iscritti Si ci ho messo tanto a farlo Ma ho avuto parecchio da fare Ebbene per i 20.000 iscritti come avete visto dal titolo Faremo un altro question and answer Qui sotto dovrete inserire tutte le domande che vorrete fare Mi prenderò le 10 più votate Ma pure se mi andrà prenderò anche quelle più fantasiose Quindi ricordatevi di controllare le domande qui sotto E di votare quelle che sono più diciamo simili a quelle che volete fare magari Perché se no evitate di fare 10 domande uguali E poi non hanno nessuna il voto diciamo più alto Per arrivare dalle prime 10 E si finisce che viene schippata la domanda Quindi ricordatevi di votare qui sotto con i like Alle domande che fanno i vari utenti Oltre a questo il gameplay che state vedendo è un gameplay abbastanza del cazzo Secondo me in cui gioco mostrando solamente il mio slaying power In questo caso perché? Perché sono abbastanza scazzato Dato che mi sta uscendo il dente del giudizio L'ultimo dente del giudizio Anzi mi sta facendo un male cane Qui sono sotto l'effetto di antidolorifici E sto giocando veramente da cani Oltre a questo è un gameplay secondo me abbastanza carino Che vi può intrattenere per questi 5 minuti Comunque ritorniamo al discorso iniziale Sì facciamo le question and answer E forse forse ci sarà un ospite speciale che magari farà le domande A cui io risponderò Quindi le domande cercherò di non vederle Perché voglio che mi rispondi Voglio cioè voglio rispondere comunque senza sapere cosa mi avete chiesto Quando finisce questo diciamo questo Queste domande finiscono venerdì Venerdì uscirà il video Sì meglio venerdì sì Venerdì uscirà il video Con tutte le risposte al question and answer Quindi rispondete mi raccomando numerosi Però dato che abbiamo ancora altri 2 minuti e passa di video Quasi 3 Voglio parlarvi di qualcos'altro Bene voglio iniziare a trattare in power personal trainer Non più di allenamenti che possono aiutarvi a migliorare la mira Le vostre abilità tattiche o mentali Ma voglio parlarvi anche di alcune tattiche O modi di giocare Strategie mentali e così via Da utilizzare nelle varie modalità Per modalità intendo ovviamente quelle MLG Cioè blitz, dominio e cerca Come per esempio magari Dare alcuni consigli su cerchi e distruggi Magari cosa vuol dire cos'è il double teamare Come si può fare Cosa fare in alcune situazioni di cerchi e distruggi Magari anche alcune cose che uso io Ma che sono molto furbe diciamo Quindi non so se vi piace questa idea Di utilizzare così Alcune di quelle che sono le mie tattiche strategie Non è che sono tattiche strategie Sono modi di giocare I miei propri Che voglio cercare di condividere in power personal trainer Perché alla fine power personal trainer è un modo È un video Una serie di video che serve per migliorare E perché no Questo certo che serve a migliorare Specialmente nelle modalità competitive E specialmente per il cerchi e distruggi Che sicuramente la maggior parte di voi giocherà Quindi mi farebbe piacere qui sotto Sapere se questa nuova aggiunta Alla serie power personal trainer vi possa piacere Perché così vedo poi di trattarla Oltre a questo Vorrei continuare a fare la serie Quella lì Pabiro e League Hero Che secondo me è molto divertente da guardare Quando non c'è niente da fare Perché alla fine sono video di 5-10 minuti live Quindi sono video che voi vi sedete Li guardate Vi gustate un bel gameplay Senza commentare Perché è solamente un fatto di sedersi Gustarsi un bel video Un bel gameplay Dove un giocatore mostra le proprie abilità E in modo così da Passare quei 5-10 minuti Gotendosi in via E non stando lì magari ad ascoltare Come in tutti i miei video Un pochino come un ritorno alle scream Ah perché mi chiedesse Perché non inizio a fare scream O cose del genere Vi posso dare una facile risposta In questo caso Attualmente non ho un team Non sto giocando con nessuno Sto vedendo cosa fare Quindi non posso darvi una risposta Certo dicendo Sì prendo gioco Faccio scream No non funziona così Bisogna giocare con persone Con cui ci si trova bene Bisogna avere dei progetti Comunque che vanno Al di là del fare scream Perché io non è che faccio le scream Per postarle qui su Youtube Vi faccio le scream Perché le faccio per allenarmi Per giocare E poi le posto qui su Youtube Per condividerle e farle vedere Quindi è inutile Che continuate a prestare Mi dicono Eh ma prima ci scrivo Ora sei cambiato Non è vero Non sono cambiato Sono senza team La situazione in Italia È molto disperata Si vedrà nelle prossime giorni O settimane Se succederà qualche novità E non vedo l'ora Di condividerla con voi Quindi vi saluto Bitches Vi lascio alla fine del video Spero vi sia piaciuto Fatemi sapere qui sotto Mi raccomando Mettete un like Perché mi dispiace dirlo Non vorrei dire nemmeno questa cosa Ma ormai sono diventati fondamentali Il mondo di Youtube è saturo È tutto una merda Let's go bitches Abbiamo perso Bravo